Abbiamo raggiunto un traguardo storico, bellissimo, in merito dei ragazzi che ci hanno creduto e sono andati al di là di ogni più rosa e aspettativa. Al di là del risultato di per sé importante e bello, c'è da sottolineare la crescita dei giocatori che è quello a cui ambivamo e per cui abbiamo lavorato tutto l'anno. E' un risultato storico per la società del Presidente Salvatore Giovanni, mai centrato prima. Ovviamente l'appetito mangiando vi scontrerete contro formazioni comunque importanti ma ovviamente senza nulla da perdere. Assolutamente, non abbiamo nulla da perdere. Ci prepariamo con la massima serenità, andando ad affrontare formazioni che non conosciamo ma sono sicuro che la squadra continua ad esprimersi su ottimi livelli come ha fatto anche nelle ultime partite. C'è un segreto particolare, che voi siete partiti ad agosto, avete vinto la fase regionale, la fase nazionale appunto scontrandovi contro comunque realtà importanti, adesso questo bel traguardo. Il segreto penso sia, oltre alle qualità dei ragazzi, la loro passione, la loro determinazione, la voglia di crescere, di apprendere. Hanno sempre lavorato con intensità, con voglia e con determinazione e quindi i risultati poi sono arrivati. Uno staff che oltre al tecnico Flavio Nocelli comprende il vice Mauro Pirocchi, il preparatore dei portieri Cristian Cicione, il dirigente accompagnatore e massaggiatore Franco Campana e il preparatore al tecnico Davide Salvi. Un mix che ha coeso questa squadra affinché ottenesse questi bei risultati. Sicuramente uno staff di primissimo livello, sono fortunato a collaborare con queste persone, tra l'altro soprattutto con Mauro, collaboro ormai da diversi anni. C'è un feeling particolare, sono veramente felice di lavorare con loro, sono stati bravissimi, è stato importantissimo il lavoro di ognuno di loro.